l'attenzione che ha voluto dare ancora una volta al nostro territorio la ministra e il prefetto Luciano Lamorgese. Buongiorno, buongiorno a tutti, non so se mi sentite bene, sì? Un saluto particolare al prefetto che ha organizzato questa giornata molto importante e a tutte le autorità presenti, alle forze di polizia, al presidente della regione che non vedo però qui collegato, al sindaca Appendino, a Don Ciotti e un saluto ancora particolare al dottor Caselli con il quale ieri abbiamo avuto un altro incontro sulle agromafie, un'iniziativa molto importante che ieri ha visto la luce per cui abbiamo posto un po' le basi per poter procedere nel senso di riportare la legalità in alcuni territori. Quindi questo è un po' con la linea conduttrice delle nostre azioni come amministrazione dell'interno e come soprattutto ciò dimostra come la sinergia tra tutte le amministrazioni interessate possa veramente contribuire a una maggiore sicurezza dei nostri territori. Io sono contenta oggi di essere qui in videoconferenza, purtroppo il Covid ci rende quasi impossibile gli incontri in presenza, speriamo di poterlo fare quanto prima, però era importante oggi essere qui con voi proprio perché si tratta della consegna di una villa confiscata alla criminalità organizzata nel comune di San Giusto Canavese. Si tratta di riportare nella piena legalità un immobile di elevato valore economico confiscato all'andrangheta, conducibile ad un soggetto arrestato per narcotraffico, quindi un odioso crimine che è importante soprattutto sulle giovani generazioni spesso incidendo negativamente sul loro futuro. Oggi si apre una nuova fase nella quale questo bene rientrato nella disponibilità dello Stato viene ora messo al servizio del territorio anche tramite uno specifico finanziamento che è stato destinato dalla regione Piemonte alla città metropolitana di Torino quale soggetto attuatore per gli interventi necessari per rendere fruibile l'immobile che verrà oggi destinato ai soggetti che sono in condizioni di fragilità, quindi che potranno ovviamente in questo modo usufruire di servizi residenziali, di cura, assistenza ed educazione. Attribuisco grande rilevanza ad eventi come questo proprio perché l'aggressione ai patrimoni accumulati dalle mafie, la loro restituzione al circuito della legalità, pilastri fondamentali della moderna legislazione antimafia, rappresentano fattori decisivi per un'efficace strategia di contrasto alla criminalità organizzata. Riappropriarsi delle ricchezze illecitamente accumulate, l'abbiamo visto anche dal video, mi pare davvero una struttura importante che potrà essere utilizzata al meglio, significa dare, e questo mi richiamo a quello che diceva il prefetto Palomba, significa dare un segnabile credibile di presenza dello Stato, di presenza attiva delle istituzioni del territorio. Significa inoltre privare i sodalizi criminali di fonti di sostegno e di strumenti di infiltrazione nel tessuto economico, consentendo anche la salvaguardia degli equilibri di mercato, delle regole di concorrenza leale, specie in questo difficile momento di pandemia, quindi stiamo attraversando tutti noi, un anno particolarmente difficile, quindi dare un segnale positivo oggi lo ritengo davvero importante. Conosco le difficoltà incontrate per liberare l'immobile di San Giusto, Canavese, con il verificarsi anche di episodi di natura intimidatoria, volta proprio a ostacolare l'azione dello Stato e la presenza dello Stato in un territorio così complicato. Quindi oggi questa consegna certamente consentirà lo sviluppo nella villa di un modello, un modello socialmente responsabile che io spero possa essere replicato anche in altri territori e quindi per la rilevanza che assume questa iniziativa, quale importante tassello di una più generale strategia nazionale di contrasto alle mafie, auspico che questo progetto possa avere pieno successo e rappresentare un ulteriore elemento di un contributo alla crescita del paese in una cornice di legalità. Quindi un plauso per questa iniziativa, un ringraziamento a tutti i presenti. Io mi scuso, purtroppo devo allontanarmi perché tra meno di di un'ora abbiamo la cerimonia di insediamento del nuovo capo della polizia e quindi abbiamo un altro passaggio fondamentale ed è importante ovviamente che soprattutto in queste occasioni osservare la massima puntualità. Quindi mi dispiace dovermi allontanare ma ripeto ci tenevo ad essere presente perché questo vuol dire che lo Stato c'è, che la presenza, la nostra presenza e di tutte le istituzioni deve rappresentare un freno anche a queste mire della criminalità organizzata di conquistare parte del nostro territorio che invece deve essere preservato da attacchi da parte della criminalità organizzata e restituito al come bene pubblico sociale per finalità che possono essere diciamo altamente eh importanti quali quelle di restituirla ai soggetti più fragili. Quindi grazie ancora e mi scuso ancora per dovermi allontanare. Grazie. No grazie Ministro. Grazie. 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 Grazie.